Sala 15 secondi, immagina a favore di Corco, che a questo punto è imprendibile, è il numero 37 e l'autorezza della Tonda Mayor, arriva dalla Repubblica Ceca, applausi per lui, applausi per lui, grande fuga, Michael Kirk, Michael Kirk, Michael Kirk! E alza il comando della classifica generale, Kirk, ed è morata per la seconda posizione, vediamo De Biasi, attenzione, De Biasi anticipa Mosca, Iacoboni che si contendono la terza posizione, forse è passato Iacoboni al terzo posto.